John, tu puoi farlo. Ora vai e non guardarti indietro. Per tutta la vita ho preparato mio figlio a guidare l'umanità nella lotta contro le macchine. Questa notte ci riprenderemo il nostro mondo! Ma ad una cosa non potrò mai prepararlo. Le macchine hanno truccato il gioco mandando un Terminator indietro nel tempo prima della guerra per uccidere mia madre. Tornerò indietro. Fammela salvare. Vieni con me se vuoi vivere! Kyle Reese! Sai chi sono? Noi ci stiamo preparando al tuo arrivo da più di dieci anni. Noi? Un Terminator. Piacere di conoscerti. Gli sto insegnando a mimetizzarsi. Lo so, ci devo lavorare. John? Ciao mamma. Come fai ad essere qui? No! Che stai facendo? John! Cosa hanno fatto mio figlio? Tu mi hai insegnato a sopravvivere. Dov'è? Su, esci. Non sono una macchina. Né un uomo. Sono di più. No! Non posso abbandonarlo. Qualsiasi cosa abbiano fatto a John dobbiamo annullarla. È tutto cambiato. Siamo l'ultima speranza dell'umanità. Ricarica. Ti stavo aspettando. Dovete togliermelo di dosso. Tornerò. Cosa? Centro. Perjano. La fine è scena. Cosa detto. Lembrane. Grazie a tutti.